Siamo qui oggi ad Anzio in occasione della giornata internazionale della pulizia delle coste. Siamo volontari della missione americana a Roma, è la terzo anno consecutivo che facciamo questa iniziativa per cercare di far diffondere l'idea di non sporcare le nostre spiagge, di non inquinare i nostri mari anche in occasione della conferenza internazionale sugli oceani organizzata dal segretario Kerry. E quindi abbiamo cercato di pulire il più possibile e in solo mezz'ora abbiamo fatto questa montagna di rifiuti. Abbiamo un buon gruppo qui dalla Trimission, ma per noi, in particolare, la U.S.U.N. Roma, è parte della nostra dedicazione per implementare gli obiettivi strategici di sviluppo strategico. E noi facciamo solo la parte qui oggi per aiutare questi obiettivi in un modo molto bello e molto bello. Grazie.